La roccia è una delle risorse più abbondanti al mondo e allo stesso tempo una delle più versatili. Sprigionando le sette forze della roccia possiamo arricchire la vita quotidiana delle persone. Un materiale creato nel fuoco può proteggerci dal fuoco e consentirci di realizzare edifici che salvaguardano le nostre città, le nostre famiglie e i nostri beni, garantendo la tranquillità di tutti. La roccia può tenerci al fresco nei climi caldi e al caldo nei climi freddi. Possiamo realizzare un isolamento che mantiene temperature interne ottimali, consente agli edifici di respirare e garantisce ambienti salutri. Il potere silenzioso della roccia può bloccare i suoni e le vibrazioni indesiderati, migliorando l'acustica negli ambienti interni e creando edifici in cui si potrebbe sentire cadere uno spillo. La roccia possiede qualità estetiche esclusive, liberamente modellabili e plasmabili dalla visione dell'architetto, per modificare gli skyline e riunire le comunità. Possiamo usare la roccia per controllare il flusso dell'acqua. La lana di roccia potrà tenere e rilasciare lentamente l'acqua, facilitare la coltivazione di una quantità superiore di prodotti con un minore utilizzo di risorse e permette di creare substrati che riducono le inondazioni. Inoltre, grazie all'idrorepellenza della roccia, creiamo soluzioni edilizie che proteggono i beni e le persone. Non vi è niente di più durevole della roccia. Mantiene forma, resistenza e prestazioni termiche per decenni senza deteriorarsi. La roccia può essere riutilizzata più volte e trasformata in nuovi prodotti. Per più di 80 anni abbiamo creato un'ampia gamma di prodotti e desideriamo scoprirne di nuovi. Continuate a seguirci per vedere come Rockwall sprigiona le sette forze della roccia per migliorare la vita di tutti. Rockwall, sprigioniamo il potere naturale della roccia.